Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi È stato trovato in un pozzo nelle campagne di Torre Santa Susanna, nel Brindisino, il corpo senza vita di Vincenzo Di Noi, 79 anni, l'uomo era scomparso il giorno di Ferragosto quando si era allontanato per raccogliere i fichi e non era più rientrato a casa È stato scoperto questa mattina in un pozzo nelle campagne di Torre Santa Susanna, nel Brindisino, il corpo di un uomo la cui scomparsa era stata denunciata il giorno di Ferragosto Si tratta di Vincenzo Di Noi, 79 anni. Il rinvenimento è avvenuto all'alba di oggi nel corso delle ricerche andate avanti tutta la notte e iniziate dopo la scomparsa dell'ansiano avvenuta due giorni fa Per tutta la notte oltre ai vigili del fuoco hanno lavorato i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e un'unità cinofila da ricerca molecolare del Soccorso Alpino e Speleologico proveniente dal Molise Sul posto ci sono anche i carabinieri.Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video